Il ruolo degli apostoli e la campità schierata in altri Immagini di una vita dedicata al Signore ma anche vissuta attivamente in cammino tra la gente istantane del sedicesimo capitolo provinciale dei frati minori francescani di Puglia e Morise che per più giorni a San Giovanni Rotondo sono stati riuniti per stabilire la guida della provincia religiosa riconfermando per il prossimo triennio fra Alessandro Mastromatteo già in questo ruolo dal 2016 Tra i definitori, quattro confratelli che avranno il compito di sostenere e consigliare il Ministro Provinciale nell'esercizio del suo ufficio, anche il morisano Fra Antonio Lembo, 37 anni di Gambatesa che dopo la laurea in Scienze Ambientali all'Unimol ha scelto di dedicarsi alla vita religiosa con una particolare propensione alla animazione vocazionale ed è Vice Coordinatore Nazionale di Giustizia, Pace e Integrità del Creato Tra i quattro definitori anche Fra Carlo Roberto, responsabile dell'eremo di Santonofrio di Casacarenda Il capitolo provinciale è un momento importante nella comunità religiosa presente per questo anche il Ministro Generale dell'Ordine Fra Massimo Fusarelli Il tema di questo capitolo che è stato scelto dai fratelli è veramente francescano Andate, andate per il mondo, l'ho ricordato stamattina a tutti i fratelli La strada è il nostro luogo ordinario Andare per il mondo ci mette in movimento, non ci fa rimanere fermi Anche in queste terre di Puglia, perché Puglia e Molise hanno al loro interno tante terre e tante espressioni diverse Sicuramente è tempo di andare e di annunciare il Vangelo dentro culture e mentalità dei giovani, degli adulti, delle persone anche nuove che arrivano nei nostri territori è ora di farlo ed è ora di farlo in modo rinnovato Un mondo così complesso come quello attuale ha bisogno della testimonianza quotidiana di prossimità dei frati, che per regola sono accanto agli ultimi e dispensatori di pace Tanta bellezza vissuta, tanta condivisione, ma anche dei punti, dei traguardi che sono lontani Con l'impegno di tutti e la partecipazione di ciascuno è possibile raggiungere ciò che il Signore chiede ad ognuno di noi Il ministro provinciale, nativo di Lucera, tra i tanti incarichi sostenuti fino ad ora è stato anche docente dell'Istituto Filosofico Sacro Cuore di Campobasso mentre attualmente è vice postulatore per la causa di beatificazione di Don Tonino Bello vescovo tra gli uomini di fede più amati degli ultimi decenni che negli anni 90 è già gravemente malato non ebbe paura a marciare a piedi per la pace nell'allora martoriata ex Jugoslavia